La prima domenica di marzo mette di fronte Nero Stellati e Renato Curi Angolana allo stadio Ezio Ricci di Pratola Pelligna. Ancora fuori per squalifica Iacobucci nei padroni di casa che ritrovano Capitan Del Gizzi in difesa e Sistepapis a centrocampo, mentre a formare la coppia d'attacco sono Onuashi e Sosa. Gli ospiti si presentano con un fronte avanzato composto da Pompei, Bizzarri e l'ex di turno Ndiaie. Buona partenza da parte dei Peligni in cerca di spazi nelle retrovie avversarie sul tentativo di Sosa. La grande assente risulta essere la precisione. I Nero Stellati si mantengono propositivi e quando a provarci è Moscone ci pensa il difensore di Pierantonio a mantenere inviolata la porta degli angolani che a metà del primo tempo si fanno vedere in avanti con la conclusione fuori misura di Di Giovanni. Appena un minuto dopo sono i pratolani a sfiorare un vantaggio, però ancora da rimandare per l'errore di Sosa che spreca la ghiotta opportunità a porta praticamente vuota. Ancora Peligni in pressione nella metà campo avversaria sul corner di Verrocchi e ancora Sosa ad arrivarci di testa trovando la nuova opposizione della difesa angolana. Dall'altra parte alla mezz'ora è Amo a rispondere presente sul calcio di punizione di Di Giovanni e prima del riposo Ndiaie a riprovarci senza però trovare gli effetti sperati dagli ospiti. 0-0 all'intervallo. Il secondo tempo si apre all'insegna dei cambi. La prima mossa è di mister De Eugenio con Montefalcone inserito al posto di Pompei mentre sull'altro fronte Bernardi richiama Stemoscone sostituito da Puglielli in contemporanea al secondo cambio angolano che vede l'ingresso in campo di Basciano per Casati. Al sessantesimo Renato Curi angolana pericolosa con Malocu che trova la provvidenziale respinta di Amo a salvare Peligni. Un minuto più avanti arriva il gol che decide il match. Bella combinazione pratolana con Sosa che serve a Onwashi il pallone dell'1-0 di marca Peligna per l'esultanza del pubblico di fede nerostellata. Ancora cambi. Ruggeri per Natale nell'angolana e Pelino per Verrocchi nei nerostellati. Al settantaduesimo è troppo alta la mira di Di Giovanni per produrre effetti dalle parti di Amo. Nel finale di gara Sosa lascia il posto a pendenza nei nerostellati vicini al raddoppio proprio con il neoentrato che non riesce a scartare Abate e a depositare in rete. Dopo oltre cinque minuti di recupero il triplice fischio finale del signor Sciubba di Pescara è accompagnato dall'esultanza Peligna. Tre punti importantissimi quelli conquistati dalla squadra di Bernardi in lotta per la salvezza. Con quella di oggi sono quattro le gare senza vittorie e senza gol per una Renato Curi-Angolana chiamata a dare di più. Nel dopogara parola ai due allenatori Alberto Bernardi e Domenico De Eugenio. Mister Bernardi voleva tre punti contro la Renato Curi-Angolana un successo che è arrivato e che fa dire ai nerostellati per la salvezza ci siamo anche noi. Sì, ci tenevamo, sapevamo che era una partita fondamentale per il nostro cammino. Fortunatamente oggi avevamo a disposizione l'intera rosa, cosa che non ho mai potuto avere a disposizione e penso che si sia visto in campo. Abbiamo meritato nettamente la vittoria. Quando ho dovuto fare dei cambi perché le forze venivano un po' meno, mi giravo in panchina e trovavo elementi altrettanto validi rispetto a quelli che c'erano in campo da poter fare entrare. Voglio fare i complimenti alle tre sostituzioni, ai tre ragazzi che sono entrati perché hanno veramente fatto la differenza. Questo è lo spirito che ogni singolo giocatore deve avere da qua alla fine. Ci siamo fatti trovare scoperti su un rilancio del nostro portiere e poi abbiamo fatto forse troppa confusione nel cercare di riequilibrare la partita. Quindi chiaramente è una sconvitta che non ci voleva e dobbiamo ritrovare lo smalto di qualche settimana fa.